Perché? Perché mi tengo lo scettro? Perché non so se avete presente per esempio il gioco degli scacchi, lì è proprio uno dei giochi dove la possiamo vedere alla grande. Allora lo sapete che nel gioco degli scacchi il re, con tutta la simpatia per il re presente in questa sala, lei ci ha una sola mossa da fare, mentre noi possiamo andare dappertutto, non è fantastico? E allora mi tengo lo scettro. Grazie.